Perché non avevo acceso la telecamera, hai capito? Ah, no, no. Tira. Mi tiri su lì per fargli prendere un po' d'aria, va. No, va bene anche lì, va bene anche lì. In atto più che puoi. Sì, ecco, guarda, ne sbagliavo. Non mi lascio più. Voilà. Eh, ma adesso voglio rivertirita però, eh, prima di collare. Eh sì. Ok, vado. Ah, che è essa. Oh, no. Oh, no. Grazie a tutti. 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 a tutti.